musica 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 ciao ragazzi ora giocheremo sempre a scoprire il genetico però stavolta padre e figlia e madre e figlio ok ora ce lo sei tu non so ma stavolta io ho un cartone ma ma adesso non so non so non so non so non so ma non so ma non so ma ma non so ma 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 non fai pubblicità vabbè fammi questo è buono se lo facciamo bene che ha scritto? che c'è? ma sembra che ha scritto per prima se fai come è prima? si deve sbagliare prima ho scelto le mani non lo vede ma perchè non lo vede? non ho troppo di pietre non lo vede vede qua allora è giusto beh cosa hai? non puoi prendere la notte non vuoi prendere la notte non lo vede è meglio che c'è non lo vede prendere il pietre non lo vede le gescurzioni guarda guarda lì non lo vede non lo vede non lo vede neanche e che fai una giusta? non ti ho fatto ma mi ha fatto la bomba ti tenuti spedio? si, vai quanto ti andrà? ma non lo metto mai non lo metto vai non lo metto 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 ma qual è non lo metto ma mi ha detto dai ma areas vai No, 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 no. Allora, io non posso spiegherla. Ancora che ti faccio scappo. Ma come ti faccio scappo? Ma per tardare a base. Ma tu? Ma sembra che sei un'altra persona. Io ho quattro. Io ho quattro. Sì, sì. Voi buono. Vai. Allora, possiamo prendere? Io. Ah, tu. Posso spiegherla o non posso spiegherla? No, no, aspetta. Spiegherla il picco o se non è? No, no, non è così. Non è così. Non è così. Non è così. È la prima parte. Sì, due minuti. Vai. Se tu hai detto, sono chiacchi. È la prima parte di te, do me. Poggio prendere il bambino, 20 cent'e Non si ha visto che non ha un po' Non è un po' Non c'è un po' Non c'è un po' Non c'è un po' Ma hai un set, pic' u set Azzbitto, potete fare un set Un set Si le mette qui è Anche 10 stelle Se-si per scopo non dallo per scopo è per scopo se ne scopo proprio la scopo non c'è la scopo non c'è la scopo perché non c'è la scopo non c'è una corda Every the Lord uyorum and then I could wait this cup don't manure robber wait un minuto, non ho... andiamo così vai due scopo due, due, basta, basta due a due ma so dove sei? tre, quattro, cinque 7, 7, 9, 10, 12 7, 7, 10, 11, 12 sono radici, adesso devo scato basta, basta da me, da me da la mille, basta basta ma ci ho spito no, do miss, stand, tu hai qua tu hai, tu hai qua, tu hai poi posso ne prendere quello che vuoi sei? 3, 4, 2, 3 4, 2, 6 2 6 e 2 3 e 4 8 Ma 8 4 4 4 4 Come si? Come ti capisce? Come si? Vi chiamo in加ietà di sito Come si? Ma la cosa si accerna? Come si, che arrivò a uscita? Come si? Vi chiamo! Non ti capisco il mio? E non ti confio nulla a uscita? E non mi sconda ci Mi sconto ma non mi sconto Che cosa deve fare? Non ti sa chiusi di fare Tutti unAY Signor si mette però si aspira che sei da super grosso si il di la vita la Grazie. No, sta tutto spasmo. Il cosmo. Mi è caciuto giusto. Non te l'hai. Che vuoi fare con te? Non ho visto la carta. 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 Ora la mia. So, ti prendi un altro, non ho visto la carta. Non ci prendi un altro. Non ho visto la carta. Non ho visto la carta. Non ho visto la carta. Molto. Dai, dai. Ah come te prese? Non ti prese, non ti prese. Ehi! Pili di un Jobs. C'è un'altra? Non c'è un'altra. C'è un'altra. C'è un'altra cosa? Ponteva il due. Che fai il due, ma? La questa è un'altra cosa. Non costa l'abbè! C'è un'altra cosa. Le non c'è? Non stai un'altra cosa. ho 4 non lo so non lo so non lo so non lo so ne va ho a 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